Musica Anche il sindacato Medici Italiani chiede di revocare l'affidamento del servizio dell'elisocorso al privato per affidarlo al pubblico. E' così che torna all'attacco il CONAPO, il sindacato dei vigili del fuoco, che chiede che il servizio di elisocorso abruzzese, in convenzione con il privato, a cifre che la collettività, secondo il sindacato, non può permettersi, venga affidato alla gestione dei vigili del fuoco. Da anni, ricorda Luigi Conti, il segretario del CONAPO Abruzzo, il CONAPO sollecita inutilmente la regione Abruzzo ad affidare l'elisocorso ai vigili del fuoco, che garantirebbero un'altissima efficienza, a costi nettamente inferiori rispetto a quelli sostenuti oggi dalla regione Abruzzo. Ma la classe politica accusa il sindacato sembra sorda e con il suo immobilismo non fa altro che continuare a sperperare soldi pubblici per avere un servizio che potrebbe costargli meno della mità, se finalmente decidessero di avvalersi di un corpo dello Stato, qual è quello dei vigili del fuoco, il cui pane quotidiano sono proprio la sicurezza e il soccorso pubblico. Conti inoltre esprime forte preoccupazione per l'ipotesi paventata dal sindacato dei medici italiani, secondo cui, pur di risparmiare, il sistema sanitario abruzzese sarebbe pronto a tagliare le guardie mediche, ma allo stesso tempo continuare ad affidare l'elisocorso sanitario al privato, a cifre fuori dal tempo e da ogni logica. Una volta tanto, e l'appello del CONAPO, si abbandonino le logiche che appartengono al passato e si dia ascolto a chi, del soccorso pubblico, ne esercita una professione come vigili del fuoco, con dedizione, capacità ed efficienza fuori ogni discussione. La posizione del CONAPO e del sindacato medici italiani è dunque chiara. L'elisocorso sanitario abruzzese deve essere gestito dal pubblico attraverso i vigili del fuoco. In attesa dell'arrivo della fiaccola del perdono di Papa Celestino V, nel suo viaggio verso la Porta Santa, che si aprirà il prossimo 28 agosto, una grande festa è stata organizzata per venerdì 19 agosto nei pressi del centro polifunzionale di San Sebastiano a Corbellino di Fagnano Alto. Una festa a base di tartufo nero. Il famoso tubero di Fagnano, cucinato in maniera facile per gustarlo meglio, sarà protagonista assoluto della serata. Suoi compagni di viaggio, la buona musica pop, rock e italiana, proposta dal famosissimo gruppo aquilano Gli Gaff and Friends, con un ottimo vino e della buona birra a fare d'accompagnamento. Il tartufo di Fagnano Alto, il comune dell'Aquilano, che fin dagli anni Ottanta ha cercato di valorizzarne il valore culinario, è da sempre ricercato dai maggiori distributori di tutta Italia, per il profumo inconfondibile e il sapore sopraffino. Al via la campagna abbonamenti dell'Aquila Calcio 1927 per la stagione sportiva 2016-2017, con il motto Riprendiamocela. Gli abbonamenti saranno validi per 16 giornate interne e si potranno sottoscrivere nella sede operativa dell'Aquila Calcio nel complesso Gran Panorama. La novità di questa stagione, spiega la società in una nota, è la Tessera Baby, che è stata pensata come iniziativa di fidelizzazione per i piccoli e piccolissimi tifosi rosso-blu, i cui genitori, al prezzo simbolico di 5 euro, potranno sottoscrivere per i loro bambini il primo abbonamento per l'Aquila Calcio 1927. Ogni anno sarà riproposta quest'iniziativa dedicata ai più piccoli. La società chiarisce che, nel momento del passaggio al nuovo stadio di Acquasanta, sarà offerta anche la possibilità a tutti gli abbonati dei settori Tribuna Centrale e Laterale, tramite un Open Day, o comunque attraverso iniziative dedicate, di conoscere il nuovo posto nello stadio di Acquasanta. Grazie a tutti!